perché è stata ritirata alle gabbie. Entra Carpineto. In vantaggio Cobra Silente davanti a Cimaforce, Carpineto, Clevernorth, Golden George, Pane e Cioccolata e Bixeno. Dopo 300 metri di corsa passa Cimaforce con vicino Clevernorth. Seguono Carpineto, Golden George, Cobra Silente, Pane e Cioccolata e Bixeno. All'inizio della curva passa Clevernorth davanti a Cimaforce, Golden George, Cobra Silente, Carpineto, Pane e Cioccolata e Bixeno. Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Clevernorth davanti a Cimaforce, Carpineto e Golden George. I cavalli entrano in dirittura con Clevernorth in vantaggio lungo la corda davanti a Cimaforce, Centropista, Carpineto e Pane e Cioccolata. Per linee interne Golden George e Cobra Silente. All'interno è Clevernorth, all'esterno Cimaforce, Centropista, Pane e Cioccolata. Passa Pane e Cioccolata davanti a Cimaforce, Clevernorth e Carpineto. In vantaggio Pane e Cioccolata davanti a Clevernorth e Cimaforce. Bene, Piero e Riccardo Menichetti sugli scudi hanno preso la accoppiata, probabilmente, se Clevernorth sarà riuscito a rientrare a Cimaforce, così come ci sembrava di intuire sul palo.